il gesto che facciamo tutti quanti quotidianamente sacco di volte ma come viene prodotta la corrente elettrica da dove nasce nelle centrali elettriche una grossa turbina viene messa in rotazione e tramite un alternatore produce corrente indotta che arriva alle nostre case messa in rotazione da vapore acqueo ad alta pressione prodotto da acqua che bolle e che viene messa in ebollizione da chi da fonti non rinnovabili bruciamo il carbone bruciamo il gas e facciamola ruotare utilizzando l'energia geotermica cioè il vapore prodotto dalle viscere della nostra terra oppure dalle cascate d'acqua oppure l'energia del vento non le paleoliche insomma tutte fonti rinnovabili ed in futuro questa energia pulita potrà essere sempre più utilizzata per fare cose che ora facciamo sfruttando e bruciando gas in questo sta il concetto di elettrificazione pensate a cottura su piastre ad induzione anziché fornelli a gas